La ditta Campadelli di Campagnola, oggi presentiamo per il vigneto due macchine importanti, queste sono le novità di quest'anno. La novità principale è questo braccio portatrezzi da applicare davanti al trattore, davanti al trattore in presenza con o senza del sollevatore anteriore, questo braccio è possibile applicargli sia una trincia che una testata interfilare oppure una spollonatrice, sempre per il taglio delle rampe nei vigneti e terrazze. Invece per questa parte abbiamo la stessa soluzione, in quanto presenta sempre per piccoli vigneti il taglio a doppio lato, sempre su terrazze, destra e sinistra. La differenza che abbiamo tra questa macchina e questa è che questa è un bilaterale, un braccio portatrezzi bilaterale con l'applicazione di diversi accessori, mentre questo è monolaterale. L'unica differenza che è possibile avere sia con il serbatoio, quindi impianto idraulico autonomo e per entrambe delle versioni.